Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Cari amici, bentornati all'appuntamento col meteo di TV6 Nel corso di questa domenica 3 luglio l'alta pressione sub-tropicale avvolgerà buona parte della penisola Regalerà un weekend da piena estate, ancora molto molto caldo Le uniche note instabili riguarderanno l'arco alpino, l'alto Piemonte in particolare Qui avremo dei temporali tra tardo pomeriggio e sera localmente anche di forte entità In Abruzzo si prospetta un fine settimana da piena estate Dominio totale dell'alta pressione, del sole, qualche nuvoletta sparsa quella nelle aree interne durante il pomeriggio Però nubi assolutamente non minacciose Le temperature in leggero aumento nella zona di Chieti fino a 34 ma anche qualche picco di 35 gradi nel tardo pomeriggio Altrove valori comunque al di sopra dei 30 gradi Praticamente ovunque, minime tra i 19 e i 24 gradi Quindi grossomodo stazionaria Con questo è tutto, grazie per l'attenzione Arrivederci al prossimo aggiornamento Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Grazie a tutti Grazie a tutti